ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di arandotable oggi ci hanno invitato a giocare a tombola andiamo? si te vai con la macchina io te raggiungo col coso come si chiama? il coso dai ah si te raggiungo col cazzo ok ok sto solo scherzando questo video serve solo ad augurare a tutti voi un felice natale con l'augurio reale che attorno al vostro tavolo ci siano anche persone che abbiano recepito il messaggio di tutte queste settimane ovvero essere disposti a giocare a un gioco da tavolo vero e magari anche una sorta di augurio da parte nostra che riusciamo a sopportare tombola sinco e mercanti in fiera quindi auguro a tutti voi buone feste buone gioche e se non ci vediamo tanti auguri a te e a famiglia ciao a tutti